buongiorno a tutti ascoltatori ascoltatrici noi siamo nella sala dell'ufficio stampa che segue minuto per minuto il sinodo valdese metodista che è giunto ormai possiamo dire alle sue battute finali ecco anche se ci aspettano ancora i lavori di oggi pomeriggio e di domani quando si avranno le elezioni del nuovo o della nuova moderatrice della tavola a fianco a me ci sono il pastore Peter Ciaccio che è presidente del sinodo e la collega e sorella predicatrice Erika Fredda che ha aperto ecco con la sua con il suo culto con la sua predicazione il culto di apertura del sinodo di quest'anno io premetto ecco che sarà una conferenza stampa diciamo un po' politica no nel senso che tutti quanti qui ci sono i nostri i miei colleghi della della stampa e ci aspettiamo ecco da questa conferenza stampa che escano un po' quelli che sono gli indirizzi ecco che questo sinodo dà alle chiese valdesi e metodiste chiese attive nella società civile sempre più presenti e sempre più impegnate ecco nella diaconia nel in tutto il lavoro che riguarda le fasce deboli e marginate non soltanto i migranti ma i poveri e gli emarginati delle nostre società delle nostre città e quindi ci aspettiamo insomma che si comincino a tirare un po' le fila allora io comincio media res si sono letti alcuni titoli un po' hard un po' spinti no sui lavori del sinodo concernenti quell'ordine del giorno che ne è uscito appunto sui decreti sicurezza entriamo subito in questo tema un po' caldo i titoli dei giornali sono stati titoli molto ad effetto cioè il sinodo che invita le chiese che a loro volta sollecitano i comuni in pratica la disobbedienza ecco rispetto alla legge quella che appunto prevista dai decreti sicurezza riguardanti appunto la residenza il rilascio della residenza agli immigrati titolo un po' spinto deduzione giornalistica sì va bene però voglio dire anche i giornalisti quando esagerano un po' di verità c'è o mi sbaglio cominciamo con il pastore ma il sinodo non ha invitato a ribellarsi ma credo che questo questo equivoco nasca dal fatto che negli ultimi tempi nel nostro paese si siano un po' invertite un po' invertito l'ordine delle cose un po' come diceva Anna Arendt per cui se uno dice voglio voglio seguire il diritto voglio lavorare per la giustizia per il diritto applicare la costituzione i trattati internazionali che l'Italia ha firmato si ribella invece dovrebbe essere qualcuno che cerca di seguire appunto di essere in linea con il diritto nazionale e internazionale gli stessi sindaci io sono pastore a Palermo dunque il sindaco di Palermo è uno di quelli più impegnati da questo punto di vista non hanno detto di essersi ribellati magari qualcuno l'avrà anche detto ma hanno detto che sono i due decreti sicurezza a essere una ribellione al diritto sono questi che sono un'altra cosa rispetto alla cultura del diritto che si è affermata negli ultimi 50-60 anni nel nostro paese poi nell'ottica di oggi della situazione ribaltata c'è una ribellione ma in realtà noi non chiediamo altro che si applichi il diritto, le regole dello Stato di diritto nella cultura giuridica che non è a estranea ma che è quella in cui molti di noi sono nati e cresciuti Le chiese sono molto impegnate sui diritti ecco, i diritti è la base biblica, teologica che c'è in tutto questo ecco, cioè quando le chiese valdesi e metodiste si impegnano sui diritti fanno qualcosa che è inerente al messaggio evangelico perché dall'esterno molti possono dire ma di che cosa si stanno occupando si stanno parlando d'altro ecco, mi sembra di no No, assolutamente no nel senso che io credo, ma la chiesa valdese nel suo complesso crede che in quanto cristiani, in quanto credenti non possiamo non impegnarci nella vita concreta che siamo chiamati a vivere non possiamo non essere testimoni dell'Evangelo che abbiamo ricevuto dell'annuncio che abbiamo ricevuto e per fare soltanto un piccolo esempio in Matteo 25 Gesù è molto, molto, molto esplicito cioè fa un elenco di quello che si aspetta da noi ero nudo e mi avete vestito ero assetato, mi avete dissetato e così via cioè, ero forestiero, mi avete accolto ero in carcere e mi avete siete venuti a trovarmi e mi avete soccorso cioè, io credo che noi come credenti siamo chiamati a intervenire nella realtà concreta questo vale per i morti nel Mediterraneo per quelli che sono alle nostri confini in Francia o dove altro ma questo vale anche per gli altri italiani per le persone che ci sono attorno cioè, io in quanto credente non posso essere credente solo la domenica quando vado in chiesa ma devo, sono chiamata a essere credente in ogni momento della mia esistenza e a cercare, sia pur nel mio peccato il peccato che mi contraddistingue in quanto donna, in quanto essere umano però, pur nel mio peccato devo cercare di essere sempre coerente quindi non bisogna avere paura della parola politica qualcuno ha paura e dice, ah ma fate politica ma quando mangiamo quando scegliamo un posto piuttosto che un altro stiamo facendo politica cioè, un conto è il discorso partitico e lì possiamo parlarne anche a lungo ma non ci riguarda mentre invece la politica è come vivo come gestisco la mia vita come gestisco la mia città come gestisco la mia esistenza io come credente sono chiamata a essere sempre credente e vediamo quindi per coerenza allo status confessionis perché domani i giornali non escano con un'altra diciamo forzatura del genere ecco, per esempio il sinodo rifiuta l'ordine del giorno che voleva scomunicare i leghisti ecco, no? ecco, questa sarebbe la supersintesi giornalistica intanto spieghiamo che cos'è lo status confessionis mi pare dichiarato soltanto due volte nella storia nel 1934 contro Hitler e poi contro le chiese protestanti nel Sudafrica che sostenevano l'apartheid quindi una presa di posizione estremamente forte allora, prima ecco, spieghiamo bene che cos'è lo status confessionis e dov'è che questo diciamo che il dibattito sinodale dov'è che si è incagliato ecco allora lo status confessionis è la definizione di di un limite di di un confine possiamo usare questo termine al di là del quale non fai più parte della della comunità dei credenti ecco per evitare che lo dicano i giornali lo dico io vuol dire scomunicare costanzialmente io dico se tu sei se tu metti al primo po' se tu dici questo disse la dichiarazione di Barman nel 34 non lo dice però sostanzialmente se invece di dire che Gesù Cristo il tuo signore dici che il tuo signore Hitler c'è un problema e arriviamo a uno stadio successivo del problema per cui diciamo sei fuori o sono fuori io ecco insomma ma c'è una separazione questo non è stato detto ecco dal dal sinodo e non è questa l'intenzione del sinodo il sinodo non ha rifiutato ecco il sinodo si è reso conto che una dichiarazione di status confessionis è un atto grave non nel senso in negativo ma un atto grave un atto pesante che va preso con con grande delicatezza con grande consapevolezza non puoi rischiare di dire che chi la pensa diversamente da te semplicemente è status confessionis ecco questa cosa non si può dire ma deve essere una decisione appunto pesante ecco presa con la consapevolezza che stai dicendo un qualche cosa di grosso e il fatto che questo sia avvenuto solamente due volte tutte e due le volte nel ventesimo secolo ecco comunque solamente due volte nella storia della nostra chiesa dice quanto sia una decisione pesante quello che il sinodo si sta avviando perché ancora non ha deciso ma nella proposta di ordine del giorno c'è ecco la richiesta di fare una riflessione all'interno delle chiese locali e anche a livello intermedio e nazionale se queste questioni dunque l'accoglienza il razzismo la discriminazione sulla base di diversi fattori di genere di identità di genere ecco se queste questioni ci interpellano a livello della confessione di fede ecco questa è questa è la decisione che più che il sinodo che insomma un po' cogliendo lo spirito forse accelerato dei tempi ecco dice no questo è status confessionis un sinodo che invita a guardare agli eventi del presente con l'occhio della confessione di fede che cosa significa essere cristiano rispetto alla situazione in cui vivi un atto significativo del sinodo per esempio è quello che sollecita le chiese locali a mettere a disposizione le proprie sale a quelle comunità islamiche o altre confessioni religiose che non sono regolamentate da patti con lo Stato di mettere a disposizione i propri locali ecco è uno dei tanti delle tante prese di posizione molto forte molto concrete sì abbiamo pensato che la fraternità non può viversi soltanto all'interno della chiesa cristiana la fraternità è nei confronti di tutti gli altri esseri umani e in Italia purtroppo abbiamo un problema che è un problema specifico cioè l'identificazione tra i musulmani gli arabi e tutte le questioni politiche che conseguono allora abbiamo avuto ci sono state raccontate delle esperienze anche molto belle di amicizia fraterna con dei musulmani in particolare a Pinerolo i musulmani non sapevano dove andare a pregare per il Ramadan e una chiesa una parrocchia cattolica e la chiesa valdese hanno messo a disposizione 15 giorni a testa i propri locali di culto naturalmente non la chiesa neanche i musulmani avrebbero voluto andare a pregare all'interno di una chiesa cristiana ma i locali tigui annessi per appunto le loro preghiere e c'è stato raccontato che è stata un'esperienza bellissima perché all'inizio sia il pastore raccontava naturalmente quello che hanno vissuto i valdesi all'inizio questa cosa aveva suscitato qualche perplessità qualche timore ma lui aveva visto che anche nei musulmani aveva suscitato qualche timore cioè all'inizio quasi non si salutavano un po' di diffidenza e poi nel corso del proseguo dei 15 giorni invece hanno cominciato a salutarsi a sorridersi e tanti timori tante preoccupazioni reciproche sono andate cadendo questo è un esempio bellissimo io credo di amicizie tu hai un problema io ti vengo incontro ti aiuto noi come italiani che quindi abbiamo una serie di diritti giustamente vuol dire il nostro paese abbiamo una serie di diritti ecco il nostro dovere è condividere laddove si può laddove è necessario i nostri diritti che sono diritti elementari perché poter pregare è un diritto elementare per un credente poter condividere i nostri diritti con fratelli e sorelle che hanno meno fortuna di noi in questo momento storico in questo paese ancora una domanda prima di lasciare spazio ai miei colleghi e alle mie colleghe si sta profilando un conte bis un conte b e quindi sta cambiando governo un governo rosso giallo giallo rosso insomma a seconda dell'accento che vogliamo e dell'enfasi che vogliamo porre una dichiarazione flash di conte è stata questa molto interessante nuovo umanesimo non è slogan ma orizzonte del paese il tema della nuova umanità è emerso è stato ridondante nei lavori di questo sinodo ecco se voi considerato che da questo sinodo sono anche uscite delle altre prese di posizione ad esempio la mancanza ancora di una legge sulla libertà religiosa il fatto che i comuni sono ancora molto in ritardo ad aprire gli sportelli dedicati al diciamo al trattamento fine vita ecco tanto per riassumere se voi doveste al nuovo governo che probabilmente che probabilmente si formerà quali sono dal vostro punto di vista le prime emergenze a parte l'abolizione dei decreti di sicurezza ecco le prime emergenze che secondo voi il nuovo governo deve affrontare però mi piacerebbe che voi partiste da questo orizzonte ecco del nostro paese ma dell'Europa che appunto è il nuovo umanesimo intanto se mi è concesso una battuta preferirei che si chiamasse governo rosso giallo perché io sono anche un tifoso di una squadra di calcio che già abbastanza problemi quest'anno per cui preferirei non aggiungerne altri battuta a parte noi siamo come cristiani siamo chiamati a pregare per la saggezza e il successo delle persone che sono chiamate vocate a responsabilità io sono chiamato personalmente in questa fase a presiedere il sinodo normalmente a condurre una chiesa locale una chiesa valdese è la stessa vocazione che richiama un governante a prendersi cura di un paese o di una comunità di una città eccetera e anzitutto ecco per quanto riguarda il nuovo umanesimo ora bisogna sempre stare attenti agli slogan cosa significa cosa non significa ma direi se l'umanesimo nasce nei comuni diciamo dunque comunque in città murate ecco con le torri ognuna batteva una propria moneta nasce lì poi un secondo umanesimo arriva con l'illuminismo che è importante ma espressione comunque di una cultura privilegiata maschile chiara di carnagione ecco diciamo l'umanesimo di oggi non può prescindere dal discorso dei diritti dei diritti di tutti dell'allargamento dei diritti dell'uguaglianza delle pari opportunità ecco e un aspetto importante è una cosa che ci tengo a dire è che a volte viene venduta come verità il fatto che allargando la base dei diritti si ha una diminuzione dei diritti di chi già è portatore dei diritti ecco questa è una grande falsità noi sappiamo benissimo che anzitutto l'attribuzione di diritti automaticamente attribuisce doveri ecco dunque una persona senza diritti può anche dire ma io non ho diritti non ho doveri ecco dunque c'è una convenienza della società a dare dei diritti e poi i diritti non si sottraggono a chi già è portatore dei diritti se vogliamo fare una metafora quando quando uno ha una famiglia ha un figlio non è che se fa un secondo figlio dimezza la quota di amore che dall'altro ecco esistono delle cose strane che si moltiplicano e non si erodono tra questi sono l'amore e i diritti ecco fanno parte le prime richieste al nuovo governo ma ecco noi appunto in quest'ottica noi pensiamo oso farmi interprete ecco perché non c'è stato un ordine del giorno a riguardo ma la cultura dei diritti e la cultura del lavoro sono dei temi importanti il nostro paese si è risorto dalle macerie e i padri e le madri costituzionali questa è una cosa straordinaria un paese devastato distrutto hanno sognato che paese costruire e la prima cosa che mi è venuta in mente era era di fondare l'Italia sul lavoro ecco sulla dignità del lavoro il lavoro che dona non soltanto le risorse per andare in vacanza andare in pizzeria la sera e ovviamente mantenere la famiglia eccetera ma dona anche dignità ti dona un ruolo all'interno della società noi crediamo che avere un ruolo nella società ecco costituisca anche un aspetto vocazionale importante dunque un governo che sia attento a queste a queste tematiche dunque non soltanto ecco a non avere problemi ma ecco a vivere in questa società avendo un ruolo contribuendo al benessere comune all'insegna appunto della libertà nella responsabilità questo poi non è che noi chiediamo semplicemente questo è già scritto nella Costituzione ecco non è nostro uso fare delle richieste specifiche ai governi a parte ecco le questioni tipo di libertà religiosa ecco quelle che più sono a nostra portata quello che ecco perché le chiese parlano della società perché le chiese hanno un osservatorio diverso dai partiti politici dai governanti hanno questo contatto con le persone con comunità particolari magari non rappresentative ecco della media nazionale e le chiese hanno anche una prospettiva più lunga nel senso che insomma il nostro capo è Gesù Cristo non prevediamo di eleggerne un altro ecco non ci sono elezioni a breve noi abbiamo una prospettiva slegata anche dalla necessità anche comprensibile di essere rieletti ecco che hanno i politici dunque in questa serenità di analisi ecco noi abbiamo questa serenità noi ci permettiamo di dire che cosa vediamo poi è chiaro che la responsabilità è nei governanti se la la predicatrice me lo permette io consentirei ai ai colleghi alle colleghe se vogliono rivolgere loro delle domande ci sono delle domande prego marco bertello torino oggi punto it normalmente non faccio sindacato di categoria no però allora normalmente sono marco bertello di torino oggi punto it normalmente non faccio sindacato di categoria però quanto si diceva prima secondo me c'è distinguere due piani il diritto e la legge chi vi accusava tra virgolette o vi riportava la vostra posizione come ribellione presumo non li ho letti tutti confesso che parlasse di ribellione alla legge non al diritto quindi solo per chiudere questa parentesi idem per evitare un frantendimento sullo status confessionis semplifico molto ma per vedere se più o meno diciamo il tema è centrato voi avete detto appellarci allo status confessionis in questo momento è una decisione pesante che è stata presa solo due volte nel secolo scorso e quindi non ci pare il caso però invitiamo a contrastare fenomeni come razzismo sovranismo esagerato e farci anche un esame di coscienza all'interno delle chiese per evitare che questi fenomeni diciamo si diffondano giusto? sì abbiamo ritenuto che lo status confessionis non sia un pronunciamento da fare nel signore della chiesa valdese unione delle chiese valdese metodiste in Italia ma deve essere una decisione presa a un livello anche più ampio questo non impedisce assolutamente anzi rimane come stimolo per le singole comunità ogni comunità dovrà essere chiamata a lavorare al proprio interno sulle persone al proprio interno perché alcuni atteggiamenti che sono stati alcuni atteggiamenti di odio di ostilità di diffidenza adesso al di là della legge ma proprio questo sentore che abbiamo nella nostra Italia di non essere più solidali l'uno con l'altro di essere ostili e come dire difendere a tutti i costi il proprio perché il resto del mondo mi è ostile il resto del mondo sono gli stranieri ma poi diventano anche quelli che sono nati in un'altra regione in un'altra città quelli che non hanno non condividono l'amore che ho io per il calcio piuttosto che cioè si allarga sempre di più il mondo ostile alla fine siamo da soli in un mondo ostile ecco questo atteggiamento che purtroppo è un atteggiamento che ci contamina che si sta diffondendo in Italia noi sentiamo il dovere oltre che la necessità di combatterlo a partire da noi stessi nelle nostre comunità nelle nostre attività di chiesa e poi possibilmente anche verso coloro che ci circondano e che ci sono accanto quindi sono come dire due piani diversi uno che è un piano formale che ancora non è stato raggiunto e uno che è un piano invece di vita quotidiana che riguarda me come credente cristiana ma che credo riguardi anche il mio vicino cattolico romano non credente musulmano cioè colui che mi abita accanto scusami soltanto collega Giaimo per completezza di informazione correggetemi se sbaglio questa sollecitazione è venuta dalla comunione mondiale delle chiese riformate di Bangkok l'anno scorso ecco dove si chiedeva appunto si sollecitava le chiese a avviare un processo di status confessionis ovvero quello che diceva prima il pastore un cammino in cui il singolo e la singola credente confronta la propria fede la propria confessione di fede con la realtà che lo circonda con la o lo circonda e prende le posizioni conseguenti ecco un po' questo Giaimo prego Antonio Giaimo la stampa in effetti volevo partire da lì quindi mi sembra che vi siete messi in cammino questa volta per raggiungere cioè fare un'analisi più approfondita quindi il prossimo sidolo probabilmente arriverete ad avere una risposta oppure no o verrà archiviato l'argomento comincia a scomunicare il prossimo sinodo ma io non penso che se il processo è serio non si arriva al prossimo sinodo ecco ma dovrebbe portare due tre quattro anni anche perché se nasce da se la necessità ecco la sollecitazione è venuta da una delle famiglie denominazionali mondiali ecco dobbiamo anche vedere che percorso si fa a livello mondiale internazionale a riguardo che io però una cosa volevo dire su questo tema ulteriore le nostre chiese non sono chiese di santi sono chiese di peccatori chiamati a santità per cui non basta diciamo disobbedire alla legge quella con la L maiuscola quella di Dio ecco non basta questo per essere fuori dalla chiesa anzi come dice Gesù sono venuto per i malati non per i sani ecco il dottore viene per i malati non per i sani e dunque da una parte c'è la la caducità dell'essere umano ecco l'errore quella che in altre in altre parrocchie viene chiamata la come si chiama la la debolezza la tentazione della carne diciamo e dall'altra c'è la presa di coscienza seria di essere chiamati a conformarci alle vie di Dio ecco dunque l'essere peccatori non è condizione per essere fuori dalla chiesa ma è condizione primaria per essere dentro la questione dello status confessionis si domanda però se c'è un limite a questo peccato diciamo tollerabile il nazismo prima e l'apartheid dopo sono state segnate come dei limiti invalicabili ecco però il fatto che uno abbia delle non lo so dei problemi delle questioni poi ecco noi siamo anche una società piena di parole dove però si parla poco magari a volte c'è uno sfogo non voglio giustificare ma c'è non si rie anche gli orari di lavoro allucinanti per chi lavora ecco fanno in modo che quando ci incontriamo non parliamo e allora quando esce la parola magari esce a mezzanotte accendo facebook oppure incontro una persona apro la bocca ed esce quello che serve è anche dare spazio alle persone a quello che uno ha dentro per poter poi ragionare a volte ci sono delle situazioni degli sfoghi non dico giustificabili ma comprensibili che vanno però ecco ogni tanto ogni tanto tutti noi ci arrabbiamo ecco però non vuol dire che sia una persona rabbiosa ecco vuol dire che magari c'è qualcosa che non va parliamone e questo è il senso diciamo primario della cura pastorale della cura della cura tra fratelli dunque se io dico a uno che mi dice a me non piacciono i neri ecco per buttarla lì e io ah beh tu sei fuori io sto magari rifiutando una richiesta di parlare di ascoltare di sentire e non è questo l'essere chiesa ecco ci sono altre domande Gianmario Giglio Agenzia Stampaneve Riforma una domanda provocatoria c'è un limite un senso del limite noi abbiamo un disastro che la Libia ha poche miglia di distanza dall'Italia sono state molte le prese di posizione delle chiese evangeliche lo fanno le chiese protestanti valdesi e metodiste lo fanno attraverso i corridoi umanitari attraverso l'accoglienza attraverso la denuncia denunciano tutto ciò però ecco noi li abbiamo veramente a poca distanza e noi forse saremo giudicati per questo il sinodo si è interrogato anche su questi temi e ha previsto un che non so un ordine del giorno un testo dove si richiama appunto a questo tema allora faccio un passo indietro il sinodo è istruito da una commissione una commissione d'esame si chiama formata da laici e iscritti al ruolo diaconi o pastori i quali hanno il compito di esaminare tutto il lavoro fatto dagli esecutivi dai nostri esecutivi che sono la tavola il cp opcemi cioè l'opera metodista la facoltà valdesi teologia e la diaconia ecco questi quattro esecutivi operano durante l'anno ogni anno alla fine dell'anno ci sono alcune persone che sono chiamate a esaminare tutto il lavoro da loro eseguito tutto il lavoro e poi istruiscono i lavori del sinodo allora quindi evidentemente da un lato la questione della Libia come tutte le altre ci riguarda da vicinissimo dall'altra se non è stata trattata nel corso dell'anno non è in scaletta diciamo ecco dopodiché il sinodo si è sempre interrogato sulle questioni dell'attualità e soprattutto sulle questioni che appunto riguardano il nostro paese quindi non escludo che prima di domani prima della fine dei lavori ci sia un ordine del giorno che parla esplicitamente della Libia per il momento non c'è stato però appunto non per indifferenza sono d'accordo con te che saremo chiamati a rispondere di questo e di altre cosette che succedono nel nostro paese sono cose che a me tormentano moltissimo a livello personale e credo anche molti fratelli e sorelle della mia chiesa siano tormentati a livello personale proprio però appunto non ne abbiamo ancora parlato non per indifferenza ma perché non è non rientra nella scaletta dei lavori del sinodo prego io non sono a conoscenza se c'è un ordine del giorno sulla Libia certo l'impegno delle nostre chiese con i corridoi umanitari e con altre iniziative sia a livello pratico cioè con i corridoi umanitari andare a prendere queste persone questi uomini donne e bambini queste famiglie nei paesi dove sono raccolti e portarli qui in condizioni di sicurezza dunque a livello pratico ma anche a livello di come si dice di advocacy cioè di usare la nostra voce per chi non ha voce dunque da questo punto di vista anche se non ci fosse un ordine del giorno del sinodo sulla questione della Libia credo che la nostra posizione sia sia chiara ma se mi posso permettere quello che a me stupisce è che nella cultura del diritto nella quale siamo cresciuti insomma non ci dovrebbe essere una posizione diversa sulla Libia ecco c'è lì c'è una situazione che fossimo stati nell'ottocento con quello che è successo in Rhodesia la guerra boera ecco situazioni così ecco non sarebbe stato niente di particolare ecco le deportazioni degli schiavi insomma l'umanità ne ha fatto di cose terribili ma nella cultura giuridica che si è affermata negli ultimi 50 60 anni 70 71 ecco dal 48 la dichiarazione universale dei diritti umani ecco questa cultura nasce proprio per dire no ai lager ecco nasce sui lager e allora non ci dovrebbe essere un'opinione diversa ecco su quello che sta succedendo quello che sta succedendo è non c'è un aggettivo ecco è orrendo è orrendo e non dovrebbe essere non dovrebbe essere permesso e richiama a una responsabilità ecco questo succede nel 48 e succede in Libia non è successo a casa mia no i crimini contro l'umanità riguardano tutti al di là dei confini non hanno bisogno di visto ecco io penso che con questa frase così lapidaria così nitida del del pastore i crimini contro l'umanità non sono ammissibili sono parte fondante del diritto internazionale che si è andato costituendo attraverso nel secondo dopoguerra in un percorso di pace e di pacificazione ecco che non vuole essere interrotto piccola chiosa non abbiamo più tempo ma piccola chiosa ci sono stati molti saluti che sono venute dalle chiese sorelle di tutta Europa no questa mattina in modo molto velato ma anche nello stesso tempo esplicito c'è stata anche preoccupazione per quello che sta succedendo in Gran Bretagna con la sospensione del Parlamento fino ad ottobre un atto che credo abbia soltanto un precedente nella storia mi pare correggetemi se sbaglio un certo Carlo I quindi che è finito poi come è finito ecco e quindi credo che tutte le chiese riformate oggi in Europa stiano parlando la stessa lingua possiamo dirlo e siano impegnati sugli stessi problematiche possiamo dirlo su questo si flash anche perché perché mi riguarda perché io sono un figlio di questa Europa sono anche cittadino britannico dunque questa cosa mi riguarda particolarmente il luogo dove ci troviamo è stato costruito grazie a una colletta fatta dai fratelli dall'Inghilterra dalla Gran Bretagna ed è stato fatto nell'Ottocento le nostre chiese anche se amministrativamente distinte eccetera sono unite di un sol cuore ecco se vogliamo usare un termine appunto ottocentesco di un sol cuore da tanto tempo per noi l'idea che si ecco che ci sia questa che ci siano delle sofferenze create ecco delle divisioni indotte qualcosa che come dire all'obiettivo ecco di dividere ecco questo ci inquieta i fratelli e le sorelle della Gran Bretagna hanno chiesto a noi ad altri di pregare per loro e la nostra preghiera e il nostro supporto per loro per questa situazione difficile che stanno vivendo di grande divisione interna la Gran Bretagna ovviamente rispondiamo a questa chiamata siamo con loro come loro sono stati con noi nei momenti più difficili della nostra storia grazie a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici tra l'altro oggi è il Giovedi Nero in cui tutte noi donne portiamo qualche cosa di nero proprio per ricordare sempre la piaga della violenza contro le donne e il nostro impegno contro ogni forma di discriminazione un saluto caro a tutti e a tutte